Esatto, sì. L'unica cosa che vi chiedo, siccome sono abbastanza suscettibile, magari d'ora in poi potremmo evitare di parlare di qualsiasi argomento. Ah, proprio qualsiasi? Ok. Se per voi non è un problema, chiaramente. È un po' difficile, per il programma potrebbe essere un problema. Lui ha chiesto. Riformulo, invece, scusami, devi scusarci un attimo perché... Ecco, eccoci. Allora, riformulo alla domanda, non sono stata chiara. Ad oggi, chi sono i favoriti per la carica di Presidente della Repubblica? Beh, che dire, abbiamo una rosa di nome, Iervolino di cognome. È un elenco lunghissimo di persone che si chiamano allo stesso modo. Cambiano solo le vocali e alcune consonanti, ma niente di che. Mentre tra quelli che sicuramente non verranno eletti, vi sono delle personalità di spicco, tra cui Russell Crowe, Gabriel Garpo, e l'Arcuri, e il grande ritorno di Paolo Meneguzzi. Pensate un po', il 38%. Paolo Meneguzzi non verrà eletto con il 38% dei voti. C'è uno che beve. È tutto molto chiaro. Invece, sul piano delle riforme, abbiamo qualche indiscrezione? Beh, sì, intanto si sta cercando di aumentare l'età media degli individui. E l'idea è quella di far festeggiare il compleanno ogni 3-4 mesi. No, non è così. Sì, sì, come già accade anche in Svezia, in Nuova Zelanda, funziona così. No, non è così. Inoltre, come tutti sanno, le donne vivono più a lungo degli uomini, ma quella che prima era solo una statistica, a breve diventerà legge. Ah. E gli uomini dovranno per forza morire prima. Ah, capito. Quindi, cosa fare? Chi prima, chi dopo, chi durante, chiaramente. Anche perché, tra l'altro, i trasgressori pagheranno una multa da 500 fino a 1.400 euro. Ah. Ovviamente non tutti sono d'accordo. Vediamo anche un contributo dalla regia, grazie a un contributo. Ecco, forse non è questo il contributo. È il contributo. Scusate l'erario, scusate l'erario. Contributo. Ma, scusa, ma fermate. Vedo che...